Quello tu non è reggiano, l'ho visto più che mi sa I rotoloni reggiano, non finiscono mai Affronta il cambio di stagione con l'actine il più forte di sempre Per il tuo sistema immunitario Ricco di vitaminati, più con bintigliate, più con bintigliate, più con bintigliate, più con bintigliate A te, forte dentro Questa è il nostro segreto Immagina di superare un ostacolo inventando tecnologie sempre nuove E poi pensa di poterlo fare in maniera naturale Solo con acqua e calore Questa è il nostro vapore, pateggi il futuro La rivoluzione IAP non si ferma Con un'offerta mobile a 9,99 euro La fibra a 19,99 euro L'Italia più bella è Superb'Italia La cattedrale di Pienza in Val d'Occia I colori dei boschi autotesini La Galleria Nazionale dell'Ubria In più, l'agenda 2023 con i disegni di Giorgio Albertini dei Castelli Italiani E Superb'Europa La rispona dei grandi scrittori I Narsazia lunghi il massiccio dei boschi Paisaggi e sapone dell'Ubria E con bella Europa il calendario 2023 Bell'Italia con l'agenda E bell'Europa con il calendario Solo in Ridicola E con i QR code tante informazioni in più Sono cresciuto all'amert Quest'anno e questa terra Mi hanno reso quello che sono Sua maestà Il pollo campese Allevato all'aperto Senza uso di antibiotici Con alimentazione vegetale Parola di Annaburi La grande notte dello sport italiano Anche per il tuo sito Registra il dominio E usa l'in-mail per comunicare online in modo sicuro e professionale Vai su aruba.it Allora eccoci qua Siamo tornati Volevi dire una cosa rapidissima A Giovanardi Che ti sta ascoltando Poi ti do la parola a Leopoldo Se deco da lei Scudo Magari c'è anche a Giovanardi Magari riusciamo un po' A morpidirlo Perché è troppo stuso Ma io senti a Giovanardi Un bello che signora ingiovanissima Lei è vecchio Ma dove? Ma dove? Ma dove? Giovanardi 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 Sono molto più giovani Lei? Ora da qualche certo Come parla? Ti hai messo proprio Fermi Fermi Questo è un po' Giovanardi Lei deve Giovanardi Si vede schiodare dalla sua miglia Romagna E una domenica viene qui Insieme a Rachele A Imacutti Può sciambalare Io ho chiudato con una partita di lo popolo Ci rendi Questa proposta Eh Escolta Ti faccio una proposta Ti faccio una proposta Fai girare un uomo luna Riccione sotto Io per noi D'agosto E poi vedi come reagisce la gente Senza basta Che non sia sottoscritto Che non sia sottoscritto Ma non è 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 E' una cosa Perché mi dispiace Per portare la voce al volo Per dare la possibilità Di fare questi dibattiti Sapendo che c'è rispetto Non c'è l'odio Verso nessuno Se vuoi venire a cena Conoscermi E' una scelta E' una bia Non ti temi di tornare Senza trasformarsi Questi temi In vermi Perché non fa il bene Che ragazzi Che sarà la prossima settimana E' una scelta una star una star della politica quell'altra era di uno squallore utico voglio dire no 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 la serata di 7 è stata offerta da stanco stressata mg Kvis ricarica plus il tonico energetico senza zuccheri hai visto energia sonni tranquilli ah che bello è la straordinaria promozione che consente di acquistare un sistema di riposo anatomico composto da biocomfort il materasso latinale con superficie massagerati in lattice le zone di portanza differenziata e rivestimento scoderabile e lavabile insieme a Demolus la rete matrimoniale è un sistema di sottotitamento testa in piedi automatizzato con la rata più piccola mai vista in un'offerta magica appena 12 euro e 25 centesimi amici al mese per 20 mesi grazie ai comodissimi finanziamenti a tasso zero per avere tutto questo e per la prima rata prendite la comoda ci pensierai dopo aver dormito per 90 notti sul tuo nuovo sistema di riposo attenzione sono di tranquilli sarà attiva solo per il mese in corso i biocomfort e Demolus danno vita a un sistema di riposo anatomico in grado di assicurare al tuo corpo la perfetta postura durante la notte del resto riposare correttamente è l'unico modo per prevenire i fastidiosi mal di schiena allo risveglio con il dispositivo di sollevamento testa e piedi poi questo sistema di riposo si adatta a te e alle tue esigenze testa su per respirare meglio e contrastare rossamento e aprile notturne gampe su per aiutare la circolazione sanguigna e decongestionare cosce e gatto cosa vuol dire beh per esempio un omaggio e allora Marion te ne offre due tra cui potrai scegliere l'utilissimo corredo notte composto da due lenzuola due federe per cucine e una morbida trapunta e un servizio di piatti da 18 pezzi che Marion ha realizzato insieme a Pognana non ti basta? ehehehe e allora Marion ti aggiunge altri due regali il primo è il tasso zero il secondo regalo è la prima rata dopo 90 giorni da tantissimo chiama Marion soluzione perdone la fibra di Aruba è la fibra che lascia liberi scegli solo quello che serve adesso ammichi al prezzo di mercato non perdere l'occasione a soli 17 euro e 69 al mese è la fibra di Aruba connessi per lì su fibra.it Infezione vaginale candida o vaginosi batterica puoi trovare Meclon antinicotico e antibatterico per la macchina d'antiospettro e in caso di prurito esterno bruciore e ricazione trova il nuovo Meclon Lennox le lisce protegge e previene ripristina il tuo benessere intimo con Meclon Lennox rana presenta duetto zucca e tattuto due ripieni due sfoglie insieme per un piacere unico duetto scoprile tutti rana 60 anni di gusto tutta un'altra storia balichiamo nuovi orizzonti per seguire la nostra squadra percorriamo sentieri imbattuti per calcare nuovi palcoscianti mando ho chiamato il cuore un calcio l'ho messo questi a posto dai 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 mando no dai chi ti sta sento tra qua e a sento 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 un po' un po' ti ho detto niente non c'è nessun il tuo popolo non c'è nessun non c'è nessun non c'è nessun mania a costa beh dovrei fare il gestivo non male di cuore ti ha portato sull'acqua a cazzo ma che aveva adesso ma i cuori andiamo via si ma non sta? sta qua ti è giungherta se non ti serve a me si c'è allora partì adesso non stava prendendo le stagioni ti sento ma non ti vedi sto sull'acqua ma c'è questa cosa? questo qua oh mamma va nel letto dove l'acqua va nel letto qua mi sono tutto mi sono tutto qui va nel non 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 ciao sono figlioste guardate tutti i suoi si sono figlioste guardate tutti 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 guardate tutti